Assessore, i varchi di Pescara saranno dotati di telecamere ma soprattutto di display per avvisare che in quel momento è attiva o no la ZTL? Sì, esatto. Secondo me è un fatto molto importante per aumentare l'efficacia e l'efficienza di questo servizio. Quindi sì, metteremo telecamere, stanno già nell'arco di due mesi, saranno installate, sono già in corso di installazione queste telecamere riposizionate in un modo più efficiente rispetto a quello attuale e poi ciascun varco avrà un display per indicare che il varco è attivo o non attivo. Questo mi pare che ci porti un po' verso una modernizzazione, un miglioramento dell'efficacia della gestione di questo servizio. In alcune zone, per esempio, la cosiddetta ZTL ambientale di Via Reggina Margherita viene attualmente chiusa il sabato e la domenica con una transenne e con la presenza di vigili che, oltre a impegnare personale che potrebbe fare altro, non è del tutto efficace e sicuro dal punto di vista della circolazione. Invece con questa telecamera e con il display la cosa potrà essere gestita in modo molto più vantaggioso per tutti. Durante la conferenza stampa avete sottolineato anche il problema del grande lavoro che occupa gli uffici comunali per i permessi temporanei. Allo studio c'è anche un sistema automatizzato. Sì, questo è una cosa che vorremmo assolutamente fare. Si parla di 1800 permessi che vengono rilasciati annualmente per gli accessi temporanei della ZTL, che è un'attività rutinaria e non richiede grande impegno dal punto di vista intellettivo, ma richiede invece il dispendio di tempo e di energie. Anche qui potrebbe essere usato questo tempo per fare altre cose. Quindi stiamo pensando a un software, a un uso per esempio con gli smartphone, delle applicazioni. Come si fa già in altre città, stiamo guardando alcuni esempi, Bologna, Varese. Cercheremo questo l'anno prossimo, non fa parte di questo progetto, di andare in questa direzione anche noi a Pescara.